Sondaggi Grande Fratello. Chi rischia di uscire, Beatrice Luzzi scalzata dalla prima posizione. E veniamo adesso a parlarvi del Grande Fratello e dei sondaggi per la nomination della prossima puntata. Precisiamo che si tratterà di una puntata eliminatoria questa volta, ossia quello che avrà preso meno voti sarà eliminato al televoto. E vi diciamo la verità i risultati di questo sondaggio che abbiamo fatto e che ha ricevuto molti voti, siamo sopra i 6.000, sono abbastanza sorprendenti. Prima di tutto vi ricordiamo che ad oggi i sondaggi che abbiamo fatto che trovate nella community del canale Mr. Slad5 si sono rilevati molto accurati. Insomma ad oggi hanno sempre predetto correttamente chi uscirà dal programma. Come sapete in nomination ci sono Beatrice Luzzi, Rosanna, Paolo Masella, Sergio, Stefano, Anita Oliveri, Federico e Monia. Ve lo ricordiamo in quanto sia Giuseppe Garibaldi che Beatrice Luzzi hanno espresso separatamente e in diversi momenti l'opinione che a rischiare di più saranno i nuovi arrivati. E anche questo è sancito dal nostro sondaggio. Oggettivamente non ci aspettavamo che il concorrente Paolo Masella fosse tanto forte. Probabilmente su di lui sono convogliati anche i voti di Perla Vatiero, molto amica di Letizia Petris, la sua fidanzata. Addirittura si posiziona ad un passo da Beatrice Luzzi, ottimo risultato anche per Anita Olivieri. Questo dice la nostra classica ad oggi, avete ancora tre giorni per continuare a votare. Beatrice Luzzi 33%, Paolo Masella 25%, Anita Olivieri 12%, Monia Laferrero 8%, Rosanna 7%, Sergio 6%, Stefano 5%, Federico Massaro 3%. Quindi secondo il nostro sondaggio l'eliminato sarebbe Federico Massaro, anche se c'è da dire che gli ultimi quattro sono veramente molto vicini. Grazie. 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 Grazie.